Le donne! Le donne! Le donne! Le donne! Io ho detto le donne! Eh no! Non state scherzando! Non lo dite più una parola del genere, sapete? Vogliamo i cuccioli! Io ho detto le gomme! Ma che amore! Tufano gomme! Di sicuro si va! Tufano è grande! L'esperienza ti da! Segui la via! Tufano gomme! La scelta della sicurezza! Circunvalazione esterna! Arzano-Napoli! Ma Napoli è un pari azionale tra il suo! Innanzitutto ben ritrovato! Lei ha una qualità particolare, quella di guardare in faccia i giocatori e quindi di farsi capire bene. Allora, per tranquillizzare un po' i tifosi, no? Noi abbiamo parlato di Lavessi, di Cavani, ma le hanno dato proprio questi giocatori dei top player attuali del Napoli delle rassicurazioni. E poi, se dobbiamo indagare sui nomi che ci ha fatto, perché lei ci ha detto Tevez e Neymar erano... Neymar! 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 Ragazzi è asciutto, ha tirato sulla maglia, ha fatto vedere che era in forma, mi ha detto che si era comunque allenato, con un preparatore in Argentina. E poi gli ho detto che guarda che appena dormisci il test. Sono sulla resistenza quello, ha fatto la sfida, farò meglio dell'anno scorso. Eh, per dire. Quindi, questo è lo spirito che c'è fra noi ad oggi. Poi, quello è successo agiare la domanda, non sono in grado di sapere grazie a tutti le donne le donne le donne io ho detto le donne eh no, state scherzando? non lo dite più una parola del genere sapete? poi diamo i cuccioli io ho detto le gomme ma che amore la scelta della sicurezza circunvalazione esterna Arzano Napoli